Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video, un video un po' diverso dal solito perché si tratta di un mini 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 vlog. Io mi trovo a Monopoli, adesso sono al Palazzo Indelli che è questo hotel che si trova al centro di Monopoli in una piazza meravigliosa e sono qui da ieri perché ieri c'è stata l'inaugurazione del fest, il festival internazionale della fotografia, questo è il secondo anno che lo fanno qui a Monopoli, ieri c'è stata l'inaugurazione, è stato veramente bello, le installazioni sono tutte bellissime quindi vi lascio magari qui le date se volete venirci, è iniziato ieri 7 settembre, non mi ricordo fino a quando ci sarà quindi ve lo lascio scritto qui e niente quindi io adesso prendo tutto e scendo, vi porterò un po' in giro qui a Monopoli, Vicoli, Porto, è tutto meraviglioso quindi se non siete mai venuti qui in Puglia, in particolare a Monopoli, veniteci, chi ci è venuto è rimasto soddisfatto quindi insomma io ve la consiglio, in ogni caso noi ci vediamo in un prossimo video, vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao! Ci siamo svegliati presto per fare un giro qui senza gente e ci proviamo! Ciao! 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 Sono appena le 8 e ci sono 28 gradi, c'è un'umidità assurda però tutta questa bellezza ripaga un po' tutto! ну Grazie a tutti. Grazie a tutti.